Tanta attenzione in sala al Congresso Nazionale di Epodologia per la lezione sul piede e sulla chirurgia del piede del professor Marco Cavallini del Sant'Andrea, ospedale di Roma e della Sapienza. Ecco professore, c'era molta attenzione perché l'argomento è delicato. Sì, l'argomento è delicato, diciamo che l'audience a cui si riferisce è quella dei podologi, io sono Presidente del Corso di Laurea di Epodologia, ormai da tanti anni stiamo lavorando molto per inserire questa figura fondamentale che è già presente in tutti i paesi europei ed è riconosciuta come una figura di prevenzione fondamentale per prevenire appunto lesioni, qui si parla del piede diabetico, per evitare di arrivare proprio alle situazioni critiche con cui si presentano spesso questi pazienti nei pronto soccorsi dell'ospedale. È una battaglia che continua sicuramente non soltanto nella formazione di questi professionisti a livello sia dei corsi di laurea ma anche dei master che facciamo regolarmente per la sua Università di Roma, ma anche a livello politico perché c'è bisogno di una sensibilizzazione, di un riconoscimento di questa figura professionale che in altri Stati europei ma anche al di fuori dell'Europa è riconosciuta come fondamentale in questo ruolo.